Ma è l'occhio Arrivo eh, sta caricando Si si Monarch Mamma mia che gioco ragazzi Ma dai per piacere Activision Fai una cosa fatta bene Grandi ragazzi Grandizioni che siete rimasti Grazie, grazie, grazie Ma quando tu chiudi Spero che abbiano messo a posto Tutte queste cose Credo che abbiano fatto un bel lavoro La mappa è carina Ma perché Abbiamo già fatto vedere la mappa di 2 Si Se fai in quel modo Marco che stacchi la connessione Poi chiudi il gioco Non mi chiude la live Non ti chiude la live Ti rimane lo schermo blu in attesa Fino a 90 secondi di tempo Ok si può partire Yes Ok Io sono dentro perché non vi vedo eh Si si sei dentro Ok Mamma mia proprio ci mette anni sto gioco A caricare anche i personaggi Bella ragazzi Grandizzi Mi sono dimenticato e mancava un Aggiornamento Nooo Dai fallo adesso fallo adesso Shardler Del multigiocatore Quanti giga è Shardler Nooo C'era dentro Questi sono 50 giga di volta Eh Il primo giorno che gioca io a Warzone con Marco Entrai un'ora e mezza dopo Mamma mia ti ricordi Si si Che Paolo fai fatto l'aggiornamento Si si aspetta Tre ore dopo Eh ma mi dette 93 giga da scaricare Eh si anche a me ti ricordi E invece a qualcuno faceva meno Invece a noi due ci ha fatto Il Eccolo Batman Grande Grazie ragazzi Grazie che siete rimasti Grandissimi Ho dovuto riavviare perché sarà inchiodato tutto Warzone è un disastro È un disastro Allora bisogna fare esci Non rigioca lì Perché con il rigioca si inchioda È di 22 giga amico Shardler In quanto tempo ti tira giù 22 giga? Deve fare abbandonare col parti Eh abbandona e poi la rifai vero la ritrovi Allora funziona Se no fa così Non me la trova la partita Subito devi fare tu Uh Giulia Pettinino verde Aspetta che mi invito io Ok Dobbiamo andare da lui Ciao Va bene va bene Non c'è problema Buonasera Lucas grandissimo È arrivato da te Grande Lucas Grande Lucas Che faccio fare? Non so in tempo Vengo se no alla prossima Va bene Se fai in tempo Shardler sai che Tra una partitella Tanto qui ci vuole un'ora Per fare la partita Quindi vedi tu Mi sa che fai tempo Invitate Marco Grazie Qualcuno che mi inviti Qualcuno grazie 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 Ok L'ho visto L'ho visto Grande 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 Zui Allora unisciti il gruppo Oh Io voglio andare a ammazzare Godzilla Eh se volete la possiamo fare Eh io King Kong Potete fare un Godzilla Dai facciamo un Godzilla Dai Dai facciamo un Godzilla Sì Sì Allora che si fa? Devi sparare Spara Spara Tu Tu pensi a sparare Lotto Io ci sto per un'operazione mona Ti devo sparare a King Kong King Kong Allora dai Seguiamo Il mitico Dissociatore Eh Pierpaolo Seguiamo Pierpaolo E andiamo a sparare King Kong Perché King Kong? Perché è un obiettivo Che devo finire con lui Ok No perché a me piace di più Godzilla Ti dico la verità Con quella roba blu Che viene poi E anche a me piaceva più Godzilla Però purtroppo ce l'ho finito il suo obiettivo Aspita Che sei? Che sei No Tu sei Sagace Sagace Quella parola ormai è diventata un Allora Vi saluta Shard Ragazzi del party Quindi lui Tu L'occhio E Pier Grande Grande Shard Penso che 22 giga li tirerà giù fra 4 giorni L'amico Shard Però Ci sta mettendo la buona volontà Eh Loki Ci mette la buona volontà Di provarci almeno Allora Loki Dobbiamo domani sera fare un gran turismo pazzesco Ti voglio in live Insieme a Shard Ok facciamo il party Perché voglio la reaction Di quando andrai a vedere la Livrea Che ti ha fatto Ti ha fatto Shard Per te Loki Ti ha fatto la livrea amico mio Hai una livrea strafiga di Shard Design Mamma mia ragazzi Guarda Shard Io mi ho promesso Mi ho promesso a Cilinturello Che non l'ho andata a vedere Non andare a vederla Non and- Dai Vogliamo la reaction domani Eh dai dai Non fare come quando dici Che stai male per andare a scuola Che poi invece non state male Non fare così Non dire che Che non l'hai vista La vai a vedere Eh Bravo bravo Caspita Gravacca miseria Ho sta febbre Bravo 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 Sta febbre Ho che rossura di scato Su tu pu' pingà tu vicino a con Ma dove è kong tra l'altro E su su la montagna Ah no forse c'era Adesso non c'è Ciao amici Inizio mi che Parabam bam bam Su ma tu l'hai finito Su vitu tu l'hai finito Non lo sento su vitu No neanche io in questo momento Credo che è al telefono Perché era al suo telefono Quello lì Ah ah ok Credo eh Poi Oh sto andando su un caccia Da combattimento Nooo Sì ma è andata via la partita Orca mia La puoi ripare qua Si può andare su sul caccia Beh io credo Speriamo Faccio in tempo Gioco quando vuoi giocare C'ho Kigo Stream elements Ciao stream elements Seguo in contemporanea Sì a te che l'ho Oh lord Grande lord Ci seguo in contemporanea Lord è fighissimo Allora Eccolo il scimpanse Hai visto? Scimpanse King Kong Amico mio Diamo il verde Diamo il verde Eccomi Scusate raga Dai Sì sì Ho il cellulare Subito Ma tu hai finito L'obiettivo di Kong No mi manca solo Conca a me Eh anche a me Lo stesso Allora spariamo Questo picco Sì sì Ma qua è Mappa grande Cento giocatori Credo ne Ma non sta mai niente Qui dentro Eccomi Ci sono C'è qualcuno? No Ci hanno sparato da lato Mi dico Ciao Qua ce ne dobbiamo andare C'è niente Proviamo ad andare qui Dai Alla macchina 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 Ragazzi Eh sì E qui Guido io Guido io Che ci ho Adattaccato il volante Raga 500 A part vecchia Mamma mia Ne ho comprate due Ne ho comprate Ne ho comprate due Per Paolo Per la paura Che magari si cancellava E poi mi chiedevi la E non ce l'avevo Bellissima Bellissima Tu devi vederli ultimi livrè Che ha fatto Sharder Amico mio Pierpaolo Mamma che roba Bisogna sparare il Kingone Uh munizioni finite Bellissima proprio Oh è arrabbiato Che incontro Che cosa è questa roba Monarch Uh qualcuno l'ha presa Io io Ok vai Se ne è andato Con che stava qui Era dietro E però era Ok 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 andiamo a sparare a con Mi trondo E chi E' proprio dietro Agli alberelli E' bello grosso E' un po' marrone Però Attenzione Sempre mica che arriva qualcuno E ho venito giù I proiettili Ma Stinti con Non abbiamo proiettili E' c'era dove c'era la macchina Ma credo che l'abbiamo presi già tutti Una scatolina Io vado più avanti Io vado più avanti Da c'è la cassa di monedì a parte Sì Sono qui alle tende Attenti che mi si magna Eh sì Qui Qui Ho messo il pink verde Pink verde Vieni vieni l'occhi Oh attenzione che lancia Lancia i roby Lancia quello lì C'è gente C'è gente Attenzione Sì c'è gente Non ho più un colpo Atterra 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 Oh c'è l'altro che mi spara C'è l'altro che mi spara La bestia L'ho pingato Mi sta uccidendo Intossicato Non mi posso Allora arrivo giù Di un secondo È da solo Comunque è da solo Ma dov'è che non lo vedo A sinistra Subito a sinistra A sinistra Sì dietro la pietra C'è un altro Zubi Ok l'ho manciato Eh te l'avevo detto Subituto La pietra a sinistra Sei morto? Ti devo rialimare? Ah no Non si può rialimare Sto gioco Ok Arrivo Allora sei Sei riservi Sono la cassa Ok Dove è la cassa Contatta Ma cassa Muni dove raga Tieni Oh c'è uno C'è uno dall'alto Dove Qui L'ho ammazzato E lì sopra Guarda Sopra il masso Qui Spero che Quello che è caduto Da sopra Marco mi dai una ripassata Ah ok me la sta dando Ah sei morto Non l'ho visto Ok Che grosso Come mi ho fatto Io gli sparò nel sederino Gli sparò nel sederino Gli spariamo nel sederino A chi cogge Dai No non c'ho più Allontanateli 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 Madonna A me fa Fa un po' timore Questo Oh guarda Guarda come salta Zero proiettili Zero proiettili Sì Vieni vieni qua Dove sei dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Dove è Zubi Ah c'è una cassa C'è una cassa Forse troviamo le munizioni Vediamo Sì Trovate Dove 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 Qui 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 Pinga 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 Oh che bello Grande Su ho trovato le munizioni Ok Grazie Dai che c'ho quasi Oh dobbiamo entrare nel cerchio Eh Sì Eh sì Prendiamo questo Oh oh qualcuno spara Chi spara Perché sparano Ah king kong Ma si riesce a ammazzare In una partita King kong O è impossibile Altra cassa di munizioni Tenete Aspettalo Che le consumo tutte Forse che c'è uno qua Oh c'è c'è gente raga Eh sì qui davanti Grandi Oh c'è l'altro Un altro Sopra Ragazzi arriva anche La roba Eh Arriva anche Questo l'ho ucciso Via via marchito Resistete 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 Io sono vivo Uncite dal cerchio Uncite dal cerchio Sto correndo No niente Mi ha segato qualcuno Oh che ce l'avevo dietro Dai l'occhi e il tibone Sono ancora vivi Anche è giù Vi grande Bella raga Allora Fatemi capire Gli spari Io vengo In formazione Si lord Si esatto Guarda la chat Dai però E sti camperoni Qui su un posto Occhio Occhio a King Kong Le dissocio Noo Eh non mi ha detto niente Mi ha schiacciato Marco ti sta mirando Scappa Con i piedi Mi ha schiacciato Cerchio di riduzione Fermate 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 Ok Dai 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 Rianimata C'è gente Giù Marco C'è gente Giù C'è gente Qua Due persone Qua E aspetta Che se mi vedono Così Sono troppo Bello ragazzi Gradissimi Guarda Il Kid Godzilla Godzilla Che avvicinati a me Ho il loadout Godzilla Ho il loadout Venite Ragazzi Venite Che ho il loadout Mi serve Una piastra Io sono giù Ragazzi E la piastra Non ce l'ho E neanche io Qui c'è il loadout Siete su voi Io sono giù Vado a sparare Kingy Kingy No no Arrima uno Pingalo Pingalo E qui E qui E qui Arca loca Che bordello Ragazzi Corri Corri Sharder Ragazzi Ti avete una cassa di munizioni Non c'ho nulla io Nulla Ho solo Godzilla Ho solo Godzilla Davanti che sta sparando Mi hanno fatto Uh ma Godzilla che spara Madonna Godzilla che spara È il top Ragazzi Loki Aspetta Fermati che vengo da te Mi resti Sto arrivando io Pure Sto arrivando io Ciao ragazzi Amici di Ticiclo Dessi Mega Serato No mi sparano Mi sparano Mi sparano Mi sparano Scappa 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 Allora io sono giù Ragazzi Vi metto il ping Dove sono Ah voi state su a sparare a Kinghi No no Scegliamo Scegliamo Arrivo Arrivo Marco Arrivo Venite venite Ragazzi Io cerco di prendere Il loadout Se è fattibile Prendi tutto quello che devi Prendi tutto quello che devi Io vado qua Nella casetta verde Vedo se c'è qualcosa Marco se vieni qui Ho le munizioni Eh adesso vado a vedere Allora Non c'è nulla Nella casa verde È possibile sta cosa Eh che cavolo Eh se avete bisogno di piastre ne ho eh Ok raga Le piastre ce le ho Sono ancora Sono ancora qua Quelli raga È ancora lì Io non li vedo però Adesso se lo riesco te lo pingo Eh anche un ping Ok Uh la cassa muni Avete trovato la cassa muni Ci sono armi per me No la cassa muni Non c'è più Trovate una cassa Se trovate le cassa Ci sono le cassa muni Oh ragazzi là c'è uno No Perché non me lo pinga? Boh vabbè Vabbè distante L'ho visto l'ho visto L'hai visto? È troppo distante Su ma tu sei da solo Fatto l'ho fatto Ragazzi ma sta vedendo la nebbia E non dobbiamo andare qui là Sì 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 andiamo Andiamo che qui Semora Ciao amici amici e amici di Twitch Benvenuti ragazzi Marco Drums Zubituzzo Pierpaolo E Loki Guardati a sinistra Guardati a sinistra Oh oh stanno sparando Attento l'occhio Lì è lì Attento è dietro di te È dietro di là Oh c'è anche un Ma qui sparano da tutte le parti Eh sì Se ti riesci ad avvicinare L'occhio Eh il gas Il gas C'è anche uno sulla C'è C'è uno sul Io sto morendo raga Forse Ciao lord grazie Lord banana Ciao Giulia Ciao Giulia Ci vediamo domani sera Che c'è il beca regalo Al mitico Loki Eh Ci sono le munizioni Sì Qui qui raga Degi ho messo Ping bravo Buonanotte Giulia Buonanotte lord Grazie amici che siete passati Ciao 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 lord Grandissimo Grazie grazie Allora Attenzione che stanno arrivando qui Eh Ce n'è un botto Ciao lord Ciao Giulia Grandissimo Facciamo i bravi Vai tranquillo Ciao ciao ragazzi Uh perché siete morti Nooo Che cos'è che mi ha ammazzato Porca miseria Cascita io ci sto per un'altra e se volete No 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 troppo Facciamo l'altro Tu Loki ci sei ancora o stacchi Dai facciamolo a quartetti Quello la Eh ragazzi è più veloce magari come modalità Però è bella Però è bella Questa qui con Godzilla e cosa mi piace Mi piace Grande Roby Cosa ha scritto la Roby Mi dissocio a coso Fatemi capire Perché non si impausa lo scorrimento Sto computer Notte Giulia Lord È vero è vero Grandissima Roby Grandissima Roberta Olly vieni qui a salutare gli amici di Twitch Vieni Olly No Olly non viene frega a una sega stasera Vieni Olly Vieni Olly Vieni Patata Dai vieni Vieni amore Vieni Patata Dai Hai fame? Sta guardando al mangiare ragazzi Non gliene frega niente Ok Bella 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 Grande E Olly mettila in virtuale Perché non vuole venire sul divano stasera Grande Olly 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 combina guai Grande Loki Capito Loki Allora mi dici quando vai in live Così ci colleghiamo Siamo 3-4 dispositivi Ti facciamo prendere l'affiliazione Ok amico? E fai i sordi Ma si che te ne frega Saluta Zuvituzzo Di ciao ciao Di ciao ciao Saluta Mi è impegnata con il tablet Sta vedendo Bing Azzurra Azzurra Ahahahah Uh Tagliato Comunque se lo ribadisco Suviso io mi sto trovando bene Con l'XM4 forte si sto usando che ti ho detto pure l'M4A1 io penso che Warzone penso che se ci si riuscirà solo un fascinato dopodomai ehm Warzone è tanta roba ma vedi in compagnia è bello è piacevole si scarica 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 non hanno fatto la season senza costruire di Portland si si l'ho fatta l'ho fatta andiamo in nuova raga nuova vai pinga 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 sotto Zubitu si si XM4 è il colore di Zubitu si tocca assolutamente si Baton sotto sotto sempre sotto sempre sotto io vado un attimo alla nave ci sono i soldi attenzione Zubi al terzo piano Zubi attenzione l'ho visto salire adesso eh quanti soldi sto trovando bello terzo piano hai detto? si l'ho visto che entrava proprio ok vado l'ammazzo e torno trovato anche la carabina Cooper uno fatto grande ragazzi arrivato dietro bravissimo grazie grazie se scendete facciamilo d'altra cosa mi servono 300 dollari io non ho nulla quella che ti rimane fai nuovi ok ai ragazzi al secondo piano dove eravamo prima zuby attenzione attenzione arrivo è morto secondo piano però sono in tre e credo di sì per c'è un bel po di gente arrivo arrivo giù certo eccolo 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 l'ho fingato l'hai visto subito mi sono iscritto batman c'è l'altro c'è l'altro c'è l'altro c'è l'altro grande grande vi tenete al fresco le armi arrivo ok le mette in trigo è molto gentile crea dipendenza ciao mitico ciao sopra sopra sotto ragazzo ma scusa stavano le mie armi non ci sono più più xm4 eccolo e l'altro sotto 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 ne avete rubato tu due manelli sono passato per un saluto ciao deciso grazie mille mitico grazie grandissimo dai dai ci vediamo domani sarà con gran turismo 7 deciso ok se ci sei c'è la mitica sorpresa a a loki la livrea di sharder che ha fatto l'occhio dove dove è uscito giù è uscito è andata proprio giù ok io raga non vedo nessuno però vabbè fa nulla siamo qui ancora un po vabbè comunque ritorno qua sono due sopra 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 andiamo raga giù 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 c'è un camper nel gabbiotto come scendete giù grazie marco adesso guarda la live grandissimo ciao amore mio vieni tata no raga sono morto vuoi bere qualcosina di fresco fatto il camper ciao amore mio ti saluta l'occhi e in parte amore mio adesso entra entra così lo senti però non si può avere l'altro sopra se saluta ti saluta l'occhi saluta noi li diamo ciao subituzzo che piazza il mitico pierpaolo il dissociatore ciao ciao a tutti bella un altro sopra sto arrivando dal tetto io raga va bene è interrato è aterrato atterrato morto si è come ti fai con il m4 che spavento che l'avate voi raga dovete dirlo quando salite ha 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 vedete questo regalo scusa è rubato qualcosa qualcosa che cosa 38 metri 2 2 lo dove è vero i soldi che vado a fare lo avvi l'anno ridammi l'anno di da ora gara 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 arca loca il palazzo davanti attenzione char de l'ha fatto la livrea ciao ha fatto la livrea di fatto ok ok ce n'è uno sopra qua fatto bravi 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 prendi la taglia questa qua tanto pettine verde pettine verde dietro ripreso ok ho preso le mie armi sono in carenza di munizioni ci sono le piastre che volete raga ho dal tetto dal tetto è sparato sul tetto raga e sul tetto no cazzo non mi sono salvato è un full team giù nella finestra ci sono gli altri due e sul tetto se puoi c'era un bombardo ok sei solo sei solo no 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 perché sono uscito raga e come faccio cazzo arola sgigno ok 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 c'è la vedo palata grandi 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 loro sì loro sì c'è data bene però matroni saldi venite che prende per l'autore quanti secondi prima di ritornare ma c'è che vengono da quale stessi vogliamo fare i furbi no ma va allagato ma allagato attenzione raga che ci dove eravamo noi prima è ci sono tre tre ce ne sono sono proprio atterrato dietro di loro grande grande la maschera vente la maschera che vuoi che ti copra ma allora attenzione che qui sopra c'è qualcuno raga sul tetto stavo scendendo qui dove siete voi attenzione e qui davanti raga qui non c'è più nessuno ciao viti 24 metri non lo pingo io che fa datemi soldi datemi soldi e 300 mortieri trecento e mille c'era i lotti 24 metri ma non so tu ma dove sei da solo e continuano a ammazzarmi no io sto venendo da voi ma continuano a ammazzarmi per arrivare sempre su sto cavolo di robo ok adesso ci sono ho fortunatamente ci sono ragazzi no mano ma stato scendendo si è qua eccolo eccolo e sopra e sopra 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 quante le scale tra le scale tra le scuole vado io vado io vado io no non andare diretto aspetta ancora sono in due sette metri e qua e qua 13 metri e sopra salita salita io ci sto salendo raga ecco 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 non andare dire non andare dire ma che se è 1 1 si è 1 ma sali 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 distrae io vado io a terra più grande dammi la maschera che non ce l'ho ok questo ha lasciato così purtroppo non dovevamo morire che ora non c'è più il ritorno occhia che sparano con l'arco ecco 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 allora uno si mette qua raga è bisogno tão ecco ok 9 metri arrivano ragazzirèson io sto guardando nuori nase manteneste Assistance caso il terrazzo dovete consultato arrivando di qua il terrezzo guardo io contro la terapia No, non uccite, non uccite Marco, non uccite No, no, sto qua Oh, ma la cosa raga Dobbiamo spostarci Ma torco Uccise uno No, siamo morti C'è la nube Eh, raga, io non avevo Siamo morti, porca Che peccato Eh, sì, peccato Sound, sound, raga No No Sì 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 Chi è che è Zubi, dai, è un po' io Raga, 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 silenzio Silenzio No 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 Aaaaaaah! C'aveo la mascaro che c'è? C'è un tato? no dai bravo 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 grandissimo bellissimo dai la partita migliore di stasera grande lui ciao lochi grazie di essere stato con noi buona serata ciao lochi ciao ciao bello ciao ciao allora sharder ha detto che non grazie grazie bello dai ci vediamo domani sera ciao amico mio ciao 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 allora sharder ha detto che non ha ancora tirato giù il gioco quindi facciamo terzetti o quartetti quello che è io alle 11 stacco ragazzi quindi possiamo fare ancora un paio di partitelle se voi volete però lochi è uscito perché ancora lo vedo ancora dentro ci mette un peccato cambiavo arma caspita sei stato bravissimo zuvi è dai 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 beh secondo io tanta roba è ciao lochi a domani dovevamo vincere dici era vincita la cazzita ciao ma non dovevi avere la lowe non dovevi avere sì perché pensavo fossero in due capito e fosse più vicino invece formula peccato qual'era stava sotto la per andare a praison al buco come se avessimo vinto che si è come se abbiamo vinto è grandissimo io forse lo posso invitare uno se c'è forza entra entra sì sì non c'è non c'è perché sharder deve tirare giù tutto il gioco 22 giga e se c'è marietto no non c'è mario vediamo azzurra fai la brava papà che siamo in live dai ciao l'occhio domani mico mio batman ti ho scritto è tante l'ho visto io niente ragazzi potete avviare ok no se l'occhi tu sharder hai detto che non devi ancora fare l'aggiornamento vero beh una la facciamo se per caso sharder ha fatto pensa alla livrea shard gli ha detto l'occhio i che non fa dormire stanotte buonanotte batman ti ho scritto il numero eh no sto mouse va sempre per terra comunque vi dico la verità mi è piaciuto Godzilla e kong l'avevo già giocato una volta sola si non è male non è male mancano solo due giorni un giorno e venti ore finisce no quando fanno una cosa bella la fanno così ma vabbè non è vento c'era l'abbiamo fatto prima giozilla king kong è fighissimo ma ok ok vai tranquillo è tranquillo sharder io domani non posso mercoledì ci sono mercoledì mercoledì formula 1 batman ti aspetto quanto gli manca sharder quanto ti manca per tirare giù non so se il frattempo che stacchiamo le 11 adesso vediamo se mi scrive sharder quanto ti manca per scaricare l'aggiornamentino subito tu a che ora stacchi? io è l'1 alle 2 ok allora rimango con te alla 1 alle 2 ragazzi come fate io io se vi vado a letto alle 11 e 20 domani sono rincoglionido mi dissocio marco eh lo so è così se vuole giocare se fa in tempo sharder è lo scritto ma non mi sta scrivendo quindi sharder se poi fai in tempo anche se magari chiudo io la live ma vuoi giocare con giuvi e il mitico pierpaolo si può fare eh ok sharder è bravo bravissimo sharder fa del livret pazzeschi azzurri ciao mamma mia dietro al cervelletto mi ha preso ahahah bella questa dietro al cervelletto mi è piaciuto ciao ciao leo non faccio in tempo mi sa per la prossima ok va bene va bene c'è la connessione un po' contro mi scrivi che giochiamo grande loki va bene contro si siamo qua grazie amore si piano piano fai un po' di pratica poi sistemiamo meglio i tasti c'è qualcosa in ancora la sensibilità io sto giocando a 7 allora contro no io si gioco con la sensibilità 7 sbocco ragazzi grazie grazie notti bravo bravo loki grandissimo ragazzi sono su e arrivo ok uno l'ho ammazzato anch'io ma guarda dove vai è andato è andato si resta si resta e lo ammazzato l'ho ammazzato l'ho ammazzato ero visto che si restava sto baloso due uccidani farò la attenzione un altro sotto qua no ce ne sono parecchi qua raga no mi ha ammazzato sul tetto occhio giù lì davanti è casetta di davanti a te sì 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 lo so sul tetto sono in due hai craccato hai craccato nooo è nascosto dietro la porta si era nascosto è dentro la casetta Pierpa qua qua dentro ce lo facciamo in due si andiamo ecco la tua rivoli io arrivo è qua è qua stava l'altro stava l'altro no no che uno e uno ma dai nell'acqua dai 3 secondi resisti come ti chiamo sì 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 è bravo resisti si chiama Pierpa stanno arrivando stanno arrivando sono anche sul tetto raga eh sono anche sul tetto raga eh occhio mi ho beccato uno adesso che probabilmente me lo becco da dietro bombardamento occhio bombardamento nooo sono dentro raga sono due attenzione eh ciao frac buonanotte ciao ciao buonanotte amico mio grazie per essere passato ci vediamo domani eh gt7 ok dai ti aspetto frac ah questa partita è scarsissima sì va bene quello è andato tocca ai suoi amici hai un altro capito ok ok aspetta assurdo perché non c'è l'autoress sono due 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 qua nooo peccato peccato che peccato oh a un certo punto mi continuano a sparare mentre venivano giù con il paracadute eh incredibile proprio quando è così eh come fai scusami eh io tolgo il paracadute e lo rimetto tolgo lo rimetto così non mi prendono no no alzumi ma fischia ma proprio sfortuna eh cosa è successo cosa è successo perché mi ha buttato fuori o credo o no sono con voi oh mi ha buttato fuori è arrivato la schermata iniziale monarch lì sei quello con però non mi vedo ah ok ci siete quarte quindi cosa devo fare tra due giorni mi finisce il playstation plus e devo aspettare quello nuovo o faccio l'altro? no puoi farlo tranquillamente e poi quando ci sarà quello nuovo ci sarà solo 10-20 euro di differenza se vuoi fare quello nuovo se no ti rimane così se no ti rimane così ok ok quindi faccio quello per tre mesi si cos'è il plus nuovo? eh partono faranno un nuovo plus ti spiega Marco ora allora praticamente quello normale con gli stessi soldi è uguale a quello che abbiamo adesso regalano i soliti forse meno giochi forse non sono più tre o quattro al mese poi c'è con una mi sembra 89 ti danno il now incluso quindi ci sono 300-400 giochi che praticamente hanno fuso il now e il plus è un servizio unico si chiama plus premium mi sembra una roba del genere e è 89 euro credo o si mi sembra la cifra è quella e c'hai 300 eh bravo bravo e poi c'è quello top che praticamente ti da ancora giochi più fighi e ti da la possibilità di provare tutti i giochi sopra le vele 30 euro per due ore è un suo tipo demo insomma ti fanno giocare il gioco per 2 ore anche alla ps1 giochi ps1 e poi c'è i giochi ps1 esatto è tanta roba eh dai dai 30 kg per rubare soldi oh ragazzi tu ovviamente tu se vuoi diciamo il piano che è ora te lo puoi rimanere eh sì sì tu lasci questo e basta è quello cioè se vuoi rimanere così rimani così poi vuoi anche il now oppure vuoi giocare ai giochi ps2 1 vogliono qualcosina in più o se vuoi provare due ore tutti i giochi non è male eh perché tu prima di comprare un gioco lo provi per due ore capisci già se ti piace o no sai quanti giochi ho preso io zuvi che che mi pensavo che erano una figata poi li ho giocati dopo un'oretta così non ho più giocato perché facevano un schifo eh capisci tutti i giochi sopra le 30 euro però eh quelli sotto no tetto tetto allora ragazzi zio mario mi ha detto se faccio 30 kill no se facciamo 30 kill mi regala un pc nuovo gaming dai forza forza dai zuvi ma 30 kill diciamo nel totale eh penso di sì oh che cacchio io 30 kill è fulminato dobbiamo fare il minimo che la testa eh dai 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 non gli conviene tanto dici dai allora impediamoci cazzo rola ecco io sono già morto vaffanculo dove sei aspetti che ti vengono no 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 non 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 va bene va bene su qua su qua attenzione che c'è un sacco di gente eh perché abbiamo segato zio mario la sfida è è iniziata eh si no bravo infatti infatti grazie anche qui mi hanno segato eh sono arrivato subito mi hanno sparato dove sei avanti zio mario zio mario cosa hai fatto tutte le spese qua dentro sono sotto se penso eh c'è un botto di gente eccolo qua cacchio cacchio vieni vieni marco vieni vieni ho battato l'ho battato uno è andato cacchio cacchio ci arrivo arrivo dal vetro ah no dava dalla porta dalla scala non c'è neanche una ucciso uno ucciso uno grande grande fa come per pa ma sono dentro qui sono attenzione arriva l'ho segato no 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 ne arrivano altri aspetta sono tutti in fondo raga attenzione eh nooo sei accorto che lo dentro adesso siamo adesso lo sapevo che ero qua sei deceduto nooo mannazza non ho caricato l'arma nooo il computer da gaming gratis ragazzi è andato possiamo fare 30 kg in tutta la serata zio mario è perché ne abbiamo fatte 30 kg così mi regali computer dai se ti da un'altra possibilità ci ritroviamo ora dai altra possibilità zio mario va bene adesso che è uscito trovi tuzzo mi ha dato dentro del giornamento eh adesso che ho il ringuito ah e ora c'è mario il marietto mario il marietto mario buonasera lo dobbiamo invitare dalla play come si fa tanti auguri a me che spettacolo ti amici di carla come dobbiamo fare con lì con l'artivino si buonissimo ma parliamo col parti activision del gioco usciamo la parte facciamo parti di gioco ok dai facciamo così dai allora allora aspetta io esco da parte raga si si anche io pure io così rivelio il gioco l'invito io si 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 ok ma play ecco perchè scusa oh ecco qua ciao ciao mario ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao mi dico si 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 vai 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 ero appena appena entrato non ti confiare tanto che con le kill su di tutto ti batta eh no quello si sa quello l'ho già visto c'è anche Marco Drams Games ciao marietto siamo in due live sei in due live su di tutto su tv e Marco Drams Games si si lo so grande marietto abbiamo giocato già con lui è vero che ho già giocato con te si 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 me lo ricordo marietto grande grande tu non hai twitch mario si ce l'ho twitch e me ti segui a a tutti e due ah tutti e due ha già messo lui si grandissimo me lo ricordo già che ci sei regalami dieci abbonamenti nooo aspetta facciamo due a testa ahahah partiamo gli abbonamenti 3 3 3 questo fucile che hai che cosa l'hai shoppato questo fucile? ma chi? il fucile che usi questo qua blu che diventa tutto strato no 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 la prima season di black ops carino brilla luci sharder fai il bravo fai il bravo sharderino ok? che cosa è quello? czy gamma creo ma io lo dico subito lo dico subito ho seguito il canale di zio mario xd ragazzi anche lui è grandissimo fa delle live fighissime e canta la canzone quella del gabbiano oh gabbiano no non fa così però vabbè che carino allora ci siamo in partigioco si trova bene con l'Owen si trova bene con l'Owen è il faro tanto acqua come si chiama? fara 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 88 si 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 non è male o è giusto una questione d'estetica come fare il figo come fare il figo adesso te lo faccio provare quando prendiamo il d'altro like no 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 allora ragazzi dove andiamo proviamo bio vai 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 proviamo bio però poi dopo dobbiamo rientrare in safe oh si tanto è vicino tanto Zubitu sicuramente entrerà qualcuno cioè verrà qualcuno allora dove 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 ping ok oh c'è un botto di gente la raga c'è un sacco di gente sul tetto io sto provando da sotto che vedo che non c'è nessuno sembra vedete sotto raga che non c'è nessuno niente nemmeno un'arma tutto pulito cacchio no dove è detto è sotto sotto no sotto 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 è dentro dove c'è i barili gialli è imboscato dentro dove c'è i barili gialli si si piano terra praticamente no 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 aspetta si si aspetta aspetta adesso si è estraiato per terra bravo Zubi grandissimo ah cazzo sul tetto c'è uno no dai ce ne sono due sul tetto ragazzi attenzione eh sono lì sulla porta quando arriva uno sul tetto caspita ma il party di gioco fa schifo eh mi sentite raga ce ne sono due sul tetto eh credo che non si senta eh ma che cazzo ah sei tu Zubi scusa eh ma sto da solo qua io non sento più Zubi oh cazzo no la da dietro attenzione Zubi ah che c'hai da lì da lì da bombata niente non è cosa di fare lo da capita raga mi sentite grande io Zubi non lo sento vabbè dammi le armi grazie grazie sei molto gentile grazie stavolta non sbagliare ma dai ma mi ha fregato due volte però oh raga raga la nebbia ma siamo qua attenzione la safe oh ma perché mi ha fatto spawnare a stronghold ah per me spawano diversamente eh ma io non mi ha messo qua scusa vabbè ce lo contattiamo da bocchino l'alto andiamo a contro a contro vieni Maria attenzione grande zio mario grande marietto ragazzi siamo a contro voi fate a contro voi due eh non lo so ci ha fatto spawnare a come pubblico a stronghold addirittura dall'altra parte cerca di coprire le tue tracce sei la preda di un team occhio guardami le spalle mi metto io al volante tetto 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 eh c'è l'indua c'è l'indua mi sparano da prisa porco cane mi sparano da prisa mi sparano da prisa vai io e mario siamo dentro eh hai passi sette eh sì ma ne arrivo ma ce l'ha marietto va bene ma marietto e mario è un taccagno che non vuole fare il saldo 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 c'è un taccagno è bellissimo guarda lì quindi chi è quello? andiamo allora c'è gente qua fuori raga io passerei un po' più avanti rimaniamo qua quel taccagno no vedi a 9000 non fai load out raga facciate ok non capite dove andare a farlo eh vedi gente parate l'helicottero o c'è che vi salgono ma chi ha lanciato la granata quella per far vedere i miei o c'è che vi salgono sta arrivando un nemico attenzione in alto c'è gente attento parpa uno l'ho segato raga avete armi? vieni vieni ma dai ma come il cazzo mi fai fatto? ma come hai fatto a prenderli? tieni tu mi chizza qua 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 vieni 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 buona sera zio mario grazie mille grazie mille mitico grazie davvero aspetto il computer no no c'è in parte mia c'è zio mario xd ragazzi seguitelo che grandissimo zio mario bella bella sto aspettando il computer in regalo perché sto facendo una mangi da paura c'è gente no non andiamo sul tetto raga non andiamo aspetta è un furtino è un furtino sono in quattro stanno arrivando tutti dove siamo qui io e mario grande drums vediamo quantino ammazzati i drums quattro abbassate carino fucile a canaliscia andiamo allora ce ne sono due fai schifo cazzo mi ha fatto sparare sopra dove c'è la lancia l'artiglieria è ancora bella hai fatto tu no 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 attenzione il tetto raga eh porca loca ho capito ho capito lì che c'erano le mie cose no 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 le ho toccate le tue armi arrivo arrivo copri la copri la che fa eh ma mi sa che se te li hanno fregati te li ha presi i mani le armi eh papà arrivano no caspita guarda mi hanno detto di rimanere lì per coprire le armi caspita bellissima bellissima dai non fare gioco ancora non fare gioco ancora a bordo che cosa è successo perché si è inchiodato tutto no no è gioco ma non sento più ecco ragazzi io vi saluto grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille ci vediamo alla prossima ciao grazie ciao grandissimi ciao bella e buona serata bellissima serata ciao ciao a tutti ciao 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 allora ragazzi e noi ci vediamo domani sera con gran turismo 7 un sacco di risata un sacco di livree rocchi reaction di rocchi e mi raccomando grandissimi iscrivetevi al canale e fatemi l'abbonamento così compriamo il fanatec di pro grandissimi iscrivetevi al mio canale youtube facebook twitter instagram tiktok twitch e ci vediamo domani sera vero amore mio? ciao a tutti ciao a tutti amici ciao amici belli amici brutti e amici che fanno i ruti ciao a tutti notte sharder notte amico mio guarda che è arrivata holly guarda holly saluta sharder ciao sharder a domani e a domani amico mio peccato che non avevi warzone dai la prossima volta vediamo venerdì facciamo anche rock rocket league se vuoi tirarlo giù sharder eh così magari inizi a tirarti giù il gioco rocket league tanto rocket league si può fare che siamo in tanti le partite durano poco si può anche girare un attimo adesso penso che siamo io zio mario batman e loki bevi io bevo adesso non c'è niente da bere bevo l'acqua senza niente bevi 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 ciao amici mio ciao sharder ciao a tutti ragazzi a domani a domani ciao zuvi grandissimo che sei entrato ciao grazie amico mio alla prossima zuvi bellissima live ciao amico mio buonanotte a tutti buonanotte a tutti buonanotte a tutti ciao 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 ciao